Nei primi dieci mesi dell'anno in corso, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma, i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, hanno individuato presso lo scalo aeroportuale di Ciampino movimentazioni clandestine di denaro contante per oltre 2 milioni e 900 mila euro. Si tratta di un risultato pari al doppio rispetto al bilancio dello stesso periodo dello scorso anno. I funzionari della sezione operativa territoriale di Ciampino e le fiamme gialle della locale compagnia, nel corso di controlli eseguiti nel settore degli arrivi partenze internazionali, hanno sorpreso 212 persone in procinto di introdurre o fare uscire dal territorio nazionale valuta per un importo superiore alla franchigia di 10 mila euro ammessa dalla vigente normativa europea e nazionale. Tra queste un cittadino saudita proveniente da Riyadh che aveva occultato nel proprio trolley 300 mila dollari, circa 286 mila euro, omettendo di dichiararli.